salve ragazzi e ragazze sono anthony punka e adesso mettiamo una cosa in chiaro mi sono comprato altri due giochi per la playstation one volete sapere quali sono il primo gioco md evil 2 sfiziosissimo e divertente ecco la noa d'orte pantomile allora iniziamo questo trailer che faremo e vi spiegheremo un po le caratteristiche di questi due giochi come voi potete sapere ho fatto pure altri episodi di rai men uno sconfiggendo mamma spaziale sconfiggendo pure la mamma spaziale con i pirati dove la nave e poi abbiamo fatto alcuni livelli di rai men uno come il pendato della il pendato della matita in biture city e l'abbiamo completati e il cratere di mamma spaziale dove poi il cratere di mamma spaziale ho affondato pure il boss però non sono riuscito a sconfiggerlo però il boss il primo boss in pianura del pianto sono riuscito a sconfiggerlo mentre il boss che si trova in le colline le colline le pianure del pianto vabbè l'abbiamo sconfitto le pianure del pianto invece il boss che si trova in il pendato della matita cioè il pendato della matita non c'è il boss scusate non lo so quali sono comunque ci sono due boss in questo fatto poi abbiamo fatto alcuni livelli anche di grotti di scoops abbiamo affrontato il boss scoops però non lo abbiamo sconfitto perché non siamo stato capace e alcuni livelli così sfiziosi per rai men allora adesso si parla delle caratteristiche di clonoa clonoa è un gioco per la playstation 1 mi sono comprato la versione giapponese cioè la versione kaze no clonoa comunque vi spiego un po le caratteristiche come sono come andano a finire perché sinceramente clonoa è un gioco che ho fatto solo due episodi il resto non riuscite a farlo invece adesso si parla di medievol 1 medievol 2 allora medievol 2 è un gioco molto sfizioso ci sono livelli come kensington il museo i resti del tirannosauro kensington la tomba il freak show granwich osservatorio di granwich accademia accademia navale di granwich i giardini di kew dunkelstein iron sludger wolf room hall il conte poi ci sta il livello che altro che il conte poi c'è il livello with the chapel with the chapel come si chiama isla poi c'è le fognature come livello la macchina del tempo la macchina del tempo la macchina del tempo le fogne la macchina del tempo lo squartatore le guglie della cattedrale le guglie della cattedrale la discesa e il demone che il boss finale in questo gioco ci sono alcuni boss che sono complicati di cui rayman medievol cioè sir daniel forte qui può usare che nel secondo capitolo tutte le storie può usare tutte le armi disponibili che abbiamo sbloccato barando il gioco e non facendolo normalmente l'abbiamo barato quindi cosa vi posso dire barare significa sbloccare tutte le armi tutti i livelli tutti tutti l'invincibilità che abbiamo fatto pure il medievolo 1 però mi sono scordato di mettere l'episodio di medievolo 1 va beh non fa niente ci sarà per la prossima volta che il medievolo 1 pure abbiamo fatto dei dei livelli nuovi così per caso però non abbiamo messo tra le su youtube ma va beh non fa niente comunque questi livelli consideravano di buttarci nell'acqua e cercare di morire però dopo non morire vi capi non perdevi le bottiglie della vita eri sempre invincibile eri sempre forte comunque questi video li abbiamo fatti su facebook e mi sto dimenticare di metterli ma va beh non fa niente allora stiamo dicendo medievol 2 è un gioco creato dove ci sta uno che si chiama whiston vandasmino un vandasmino che ci guiderà presso le sue avventure mander una specie di lucertolone molto forte che velocissimo dogman un cane vestito da uomo rosso che c'ha i muscoli e combatte però poi non è tanto difficile da sconviggere e tutto l'altro resto diciamo e lord parlenton un demone rosso che vuole vendì che si vuole che vuole distrugge tutta londra perciò poi ha evocato il tirannosauro è stato molto difficile capire come si fa medievol 2 però purtroppo medievol 2 a dire la verità alcuni livelli non l'abbiamo completati perché medievol 2 questo qua che mi hanno mandato non si arrampica cioè alcune volte si arrampica alcune volte no cioè ci stanno delle scale capito dei muri ci sono delle scale dove si può aggrappare e praticamente alcune volte si riesce a arrampicare alcune volte si blocca invece e non si riesce a arrampicare e poi c'è pure dei problemi di di camminare cioè è difficile da camminare cioè alcune volte se tu non lo fai muovere non lo fai girare avanti e dietro si blocca e non non si riesce a muovere capi devi andare indietro e non avanti per farlo sbloccare infatti comunque questo gioco un po di problemi me l'ha portati però per fortuna quando l'ho pubblicato su internet su facebook non me l'hanno segnalato per copyright perché si dice che questo gioco di solito verrà segnalato per copyright però per fortuna a me non me l'hanno segnalato vuol dire che il gioco se le potevo mettere questi video qua però clonoa un video mi hanno rimosso di un minuto e 22 la musica clonoa perché ingroteva persone da un'altra persona e me l'hanno rimosso ma non mi hanno rimosso il video mi hanno tolto l'audio in alcuni paesi però non tutti scusate se lo voglio dire ragazzi siamo a gennaio ci sta la nebbia fa un freddo cane un freddo che mi sto gelando e volevo sapere da voi quali giochi più vi piacciono allora medievolo 1 non c'è bisogno di fare il trailer per poter mettere quei pochi video che abbiamo fatti dove facciamo vedere che nel sol nel se facciamo vedere che cadiamo nell'acqua e moriamo quello a noi non ci interessa però possiamo anche dire che quei livelli per noi l'abbiamo fatti su facebook e resteranno su facebook mentre questi giochi qua questi due giochi che ci siamo comprati più rayman facciamo un trailer commentato su youtube di 13 minuti e 15 scusate se dico la parola quello che tanto dura il video che abbiamo fatto perché comunque se volevo fare pure medievolo 1 non c'entrava nel video cioè il video usciva più di 15 minuti usciva 20 25 minuti che mi fa utilizzare il prodotto quello la e quindi non l'abbiamo fatto però io vi dico adesso dedicato ai siti affumante cennifer talone jessica conetta ginevra conetta demi carlone che ha fatti gli auguri di compleanno gli ho messo mi piace e lei ha fatto gli auguri di compleanno e lei ha messo mi piace florida marcella moira de cristoforo sarita puca tutte le nostre ragazze belle di elano abbiamo fatto un video anche su abbiamo fatto ultimamente un video commentato con le dediche e mo facciamo un video facciamo un video dove praticamente commenteremo questo fili questi questi filmati che abbiamo fatti di raiman di medievolo 1 cioè medievolo 2 scusa e clonoa d'or topando 1000 così si chiama il gioco però è un gioco giapponese la versione italiana non me la so comprata perché costava più di 60 euro costava 80 100 euro non ce la facevo i soldi che mi devo comprare medievile che costa solo medievile 2 è costato 65 euro medievile 2 figuratevi invece clonoa l'ho pagato 29 euro la versione giapponese mi credevo che non funzionava nella playstation perché era la versione in dish poi quando mi è arrivato mi sono un poco preoccupato ho detto ma questo lo vado a mettere la playstation perché la versione in dish non la legge e non lo leggeva però fortunatamente quando l'ho messo nella playstation l'ha letto senza sapere come l'ha letto l'ha letto nella playstation e abbiamo potuto giocare i nostri gameplay ovviamente sempre dopo medievolo 2 medievolo 2 è sfizioso ho trovato i codici per parare e di tutto non so cosa dirvi però sinceramente quello che più mi interessa e sapere come si fanno alcuni giochi cioè come si risolvono alcuni giochi nel nel gioco di medievolo 2 c'è una macchina del tempo dove c'è una tromba che dobbiamo suonare a schiacciando alcuni tasti e quello è un enigma difficile c'è l'enigma di prendere il soffietto dentro al liquido verde in gray witch è quello praticamente cosa devi fare devi spostare le levette con il coso con la guarda con non lo so come si chiama in gudine group la cosa che la tira di ferro e lo devi e lo devi tirare fuori dal liquido usando la testa vabbè un po complicato non posso spiegare invece poi ci stanno alcuni livelli come gli elefanti che dobbiamo distruggere in freak show quegli elefanti li possiamo distruggere con qualsiasi arma che vogliamo e prenderci le javi per affrontare un altro elefante che si trova nella camera e devi colpire delle levette e ci devi far cadere gli oggetti addosso che stanno appesi invece ai giardini di che a parte che ci sono le zucche che stavano pure in medievolo 1 ma poi cosa dovete fare dovete prendere gli ingranaggi dovete salvare le persone che non vengono impietate dalle zucche praticamente che cosa vi posso spiegare e dovete stare attenti perché quello è un livello molto difficile dove potete cadere potete morire però sinceramente sono morto un paio di volte però non sono morto proprio io e però comunque riuscite a farlo trovare la valvola del serbatoio la valvola della serra la valvola eccetera eccetera e poi là dentro piove poi ci sta un altro livello quello là del conte il conte è un livello che vi preoccuperebbe un poco perché che cosa che cosa fa questo conte allora noi ci troviamo dentro una stanza dove ci stanno quattro specchi che dobbiamo far riflettere la luce sopra al lampadario per farlo a bruciare però prima di bruciarlo il conte ci lancerà delle palle biocolorate e noi le dobbiamo le dobbiamo fare in balza vicino agli specchi per poterli distruggere questi specchi di solito se distrugge e si deve mettere al centro il conte il conte per essere bruciato deve stare sempre al centro quando usiamo gli specchi che vengono distrutti il sacro riposo del conte dice e perché poi lo dobbiamo battere capi come boss è un poco difficile però l'unica soluzione è che non li può battere facendo così ma poi il livello full from all dobbiamo sconfiggere un altro modo che dobbiamo usare un altro modo per sconfiggere i demoni cioè cosa dobbiamo fare i demoni devono essere distrutti con la luce del sole e nessun'arma può distruggerli solo la luce del sole si bruciano e muoiono e come potevo spiegarvi alcuni di questi livelli sono proprio complicati parliamo del livello alle fognature dove dobbiamo liberare le ragazze e altro che altro livello ha il demone il demone è uno evocato da evocato da lord palenton e cosa dobbiamo fare dobbiamo distruggere il demone e dobbiamo sparare la navicella per farla sparare al demone praticamente questo posto è complicato non ve lo posso spiegare ci si presentano mander e dogman insieme a palenton che poi vengono distrutti definitivamente sono forti non sono di non sono deboli e e ci sono altri livelli vabbè comunque io vi saluto tendono i conga ci vediamo alla prossima se vedete questo video iscrivetevi al canale e non ci facciamo sapere di niente ciao